Salve ragazzi, oggi ho scoperto la vita, oggi giocaremo a Nations Eleven, prima annunci, vi ho già raccontato in un video ieri come vacanze di Pasqua uguale inizio a montare il video dell'iceberg delle partite di calcio e signori ho appena iniziato a farlo Allora, Filbora e Word, Filbora è letteralmente il progetto del video che sta venendo montato, Word è il copione che sto leggendo Beh, sappiate una cosa, io ho un paio di problemi a tipo, allora, vi spiego In pratica nei video ho sempre un bel po' di, diciamo, momenti, diciamo, momenti dove devo penso a cose Errori di parlare, ok? Errori quando parlo Nei video ci sta perché, vabbò, lo faccio così per divertirmi Però, in un video dove io devo spiegare una cosa Quindi, mi sono portato degli occhiali per farmi leggere bene il copione Però, ragazzi, con gli occhiali, veramente, io non ci sto, cioè, vabbò Perché, infatti, ho attivato la webcam per ragioni che, vabbò Perché se mi vedo con gli occhiali, vi do il canale Intanto, allora, questo gioco dobbiamo in pratica mettere dei giocatori, diciamo, per nazioni Allora, io direi di usare un modulo tipo che io conosco, il 433, ecco qua Dai Perché Jordan Bigford? Ah, devo fare... Wow, 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 devo mettere Messi Messi Ecco qua, Messi Ok, vai, si bassi, Van Van Dijk Portogallo Ersium Cristiano Ronaldo Germania, Ter Stegen Popa! Paesi bassi, paesi bassi Eh, eh, eh Wijnaldum Ok Italia Italia Chiesa Ah, no, allora Barella Ecco qua Brasile Neymar Francia Fernandez Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-belgio Ah, basta De Bruyne Eh, sì, però mi... Vas-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Dai che sono molto offensivo Allora Brasile andremo con Vinicius Junior Ecco qua Vinicius Junior Ok Portogallo Ersium Basta con ste cose Poi Brasile Brasile Poi andremo con Pacchetta così a caso Potremmo andare con Richarlison E qua andremo con Vi dispiace ragazzi Richarlison è la nostra scelta Belgio Belgio De Bruyne Ok Spagna Suso Qua alla sinistra Ok Paesi Bassi Ah ma no Ok Germania Ter Stegen Inghilterra Harry Maguire Portogallo Renato Sanchez No Infatti No che palle No 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 Ma che palle Non sto Non penso a te Cacchio stavo facendo perfettamente Poi è arrivato Il video non finisce Facciavolo 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 Io non riesco a fare Ma cacchio di 90 secondi Allora facciamo Facciamo un modulo Che mi riesca Di scassare Tipo tutti 3 4 2 Ecco qua 4 2 3 1 Proprio Proprio il modulo Incredibile Allora Inghilterra Andremo con Foden Visto che attualmente Ok Paesi Bassi Van Dyke Brasile Brasile Vinicius Se riesco A metterlo Vinicius Junior No Allora Vabbò Andremo Ovviamente Col piccione Richarlison Paesi Bassi Wijnaldum Così a caso Il proprio Viene Di nuovo Paesi Bassi De Jong Franky De Jong Ecco qua Devo Paesi Bassi Questa volta Andremo con Mattias De Ligt Brasile Con chi potremmo Abbandonare Paqueta Spagna 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 Jesus Navas Ok Italia Donna Roma Ok Terzino Giordi Alba Ok Infine Argentina Ah Non ci credo 175 centesimi Di secondo Stefano Io non ci credo Ragazzi Ok Il video può Qualche fine Direi di farne una Dai facciavolo medio Una 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 medio No dai facciavolo Facciavolo Classic Medium Ecco qua Facciavolo Facciavolo Il 352 Ma la Andiamo proprio Formazione Di cui io Non so niente Oh Francia Francia Con chi Io te nemmo andare Francese Vabbè La tarta Luganigia Svizzera Sommer Importa Polonia Lewandowski Ecco qua Nigeria Nigeria Finito I giocatori Lukman Lukman Qual è un altro Giocatore Nigeriano Oltre a Osiman Osiman Non c'è O Qual è un altro Giocatore Nigeriano Lugman Nigeriano Success L'altro Nigeriano Success Che però No Viva Pollore Facciavolo Estremo Proprio Però Col Però Col Modulo A caso Estremo Col Modulo A caso Senegal Kulibaly Ok Danimarca Eriksen Ok Slovacchia Slovacchia Oblak Oblak E Slovacco No Ma qual era Quello Slovacco Andanovic Andanovic No Sono sloveni Allora Qual è quello Slovacco Vabbò Dai stavo Dai stavo anche Facendo bene Poi è arrivata La slovacchia Che Allora Facciolo di nuovo Facciolo Sì Sì Hanno un player Camerun 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 Eh del Camerun Mi viene solamente In mente Petra Che gioca Che fa Fanfactor Allora Chi Iev È del Gana Basta Con giocatori Del Gana Basta Vabbò Signori Noi potremmo Anche lasciarci Torno a montare Il video Dell'iceberg Sul calcio Ci vediamo